Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Il famoso Cristiano Malgioglio non è affatto single, chi è il suo nuovo amore di da quando condividono le proprie giornate insieme? Ecco tutti i dettagli a riguardo Cristiano Malgioglio fidanzato.Come ben saprete lui alle sue spalle ha innumerevoli anni di carriera ed il suo nome risuona negli studi televisivi ormai da diverso tempo Grazie alla sua carriera e dalla sua spiccata simpatia ha conquistato il cuore di tutti noi Diverse volte inoltre ha partecipato a numerosi reality come ad esempio il grande fratello Vick All'interno della casa ha rapito tutti con il suo carisma e con la sua ironia incredibile. Come dicevamo infatti, al rinomato programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini ha partecipato svariate volte Inoltre, in una delle tante edizioni di quest'ultima ha perfino ripreso i concorrenti presenti poiché agli occhi degli italiani il reality stava ormai perdendo il suo inestimabile valore Insomma, lui è proprio un personaggio che è importante nel mondo dello spettacolo italiano Malgioglio Cristiano.Questa sua notorietà però, come spesso accade, va ad intaccare la sua vita privata Per questo motivo infatti l'uomo ha deciso di mantenere un discreto livello di privacy Negli anni di fatto sono attrapelate sul suo conto davvero pochi scopri riguardo la sua vita privata e specialmente riguardo alla sua vita sentimentale Nonostante questo però, con il passare del tempo lui stesso ci ha deliziati con dei dettagli molto succulenti Cristiano Malgioglio, chi è il suo attuale fidanzato? Non ci crederete mai Come vi abbiamo già anticipato, spesso il famoso personaggio televisivo ha svelato alcuni piccoli particolare direttamente nelle varie interviste da lui rilasciate Ad oggi possiamo infatti confermare che il suo cuore è appartenuto a diversi uomini, dei quali però si conosce solo ed esclusivamente il cuore Dovete inoltre sapere che, a quanto pare, a lui non piace affatto condividere la propria quotidianità con il suo partner Pare infatti che non riesca a gestire alcune situazioni poiché ha una paura innata che gli consente di viversi determinati momenti Per questo motivo infatti la maggior parte delle sue relazioni sono state vissute a distanza Ebbene sì, per chi non lo sapesse ha legato con uomini di ogni nazionalità Malgioglio Cristiano vita privata.Qualche tempo fa, durante un'intervista, lui stesso ha confessato il tutto ed anzi ha perfino affermato che l'allora fidanzato conduceva la propria vita ad Istanbul Lui si chiamava Michael ed aveva solo 38 anni Successivamente però, dopo aver condiviso molto con lui, i due pare che si siano nuovamente allontanati Ad oggi, secondo quanto si vocifera, il suo cuore è nuovamente impegnato con un uomo di cui non si conosce praticamente nulla Ogni dettaglio infatti è sconosciuto a tutti, perfino il nome non è stato rivelato Di questo nuovo amore si conosce solo ed esclusivamente l'origine Ho incontrato quest'uomo al Gran Bazar.Gli ho sorriso, lui mi ha sorriso Ci siamo al sorriso.Questa storia va avanti da un anno, lui è un uomo riservato come d'altronde lo sono io Queste sono le sue parole, le quali potrebbero confermare le chiacchiere sul suo conto Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao